Il mantempo di questi ultimi giorni ha rallentato anche il cantiere del raddoppio ferroviario della linea Piadena-Mantova. L'innalzamento del fiume Olio con il conseguente allagamento delle campagne circostanti ha reso di fatto impossibile praticare ogni attività di scavo nelle aree di pertinenza del cantiere. È dunque rimandata, data da destinarsi, anche la programmata bonifica bellica subacquea del tratto sotto il ponte ferroviario Il Metallo, dove verrà realizzato il nuovo manufatto e dove è stata individuata la locomotiva precipitata a causa di un bombardamento nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo del ponte tra Bozzolo e Marcaria. La bonifica bellica era prevista per questa settimana ma la piena dell'olio non consente al momento alcuna operazione né con natanti né con mezzi da terra. Fermi anche le attività di scavo in alcune aree come a Piadena-Drizzona, nella zona del Canale-Dugale, dove è stata scoperta un'antica fornace anche per l'eccessiva presenza di fango che renderebbe vano ogni intervento. Pur con la presenza di acqua e fango comunque procedono i lavori di sottofondazione dei pali e posa fondamenta in corrispondenza dei quattro cavalcavia in corso d'opera da Bozzolo a Ospitaletto. Insomma, dove si può lavorare la bozzogliana va avanti. Procede anche il completamento del campo base a ridosso della Statale 10 alle porte di Bozzolo, composto da uffici e dormitori, la cui apertura è prevista tra fine novembre e gennaio. Il maltempo non ha fermato nemmeno la demolizione della sede ferroviaria affidata a Salcef. La società al momento ha rimosso i binari da Bozzolo a Curtatone, prevede di arrivare a Manto ventro una settimana, dieci giorni, e il ballast, ossia il pietrisco su cui poggiano le traverse, da Bozzolo a Castellucchio.